Un cartellone ricco e variegato di eventi in grado di raccontare e promozionare le tante belle realtà del nostro territorio, proiettandole in una dimensione più ampia, grazie al sostegno importante della città metropolitana di Napoli. Recita così la nota del Comune di Quarto, una serie di eventi che partono a ridosso del Natale, che si protrarranno fino a settembre del 2024, abbracciando la musica, la cultura, la gastronomia e i consueti appuntamenti dell'agenda religiosa per i fedeli. I dettagli del programma di iniziative e appuntamenti sono stati illustrati dall'amministrazione comunale in una conferenza stampa. Si chiama Quarto in viaggio per la legalità, una scelta rivolta soprattutto ai giovani del territorio, affinché possano far fiorire ancora maggiormente la cultura della legalità. Ecco il commento del sindaco di Quarto Antonio Sabino e dell'assessore agli eventi Anarita Ottaviano. Abbiamo costruito un cartellone degli eventi la cui denominazione riflette molto il taglio culturale che c'è stato in questo territorio, inserendo all'interno del titolo la denominazione legalità. Questo perché abbiamo voluto dimostrare che cultura e legalità rappresentano per questo territorio uno sviluppo. Ulteriori eventi con teatri, villaggio di Babbo Natale, l'epifania, praticamente il giorno dell'epifania, ci sarà praticamente la Befana Raneghi, nonché lo spettacolo dei burattini e le Befane per strada per i nostri cittadini e per i nostri piccolini. In programma alle porte di Natale il 23 dicembre il concerto di Fiorenza Calogero, folklore e tradizione della musica napoletana al centro del suo spettacolo. Tutta la musica che Napoli mi ha insegnato, io ho voluto creare questo progetto insieme al chitarrista Marcello Vitale, che in questo concerto suona sia la chitarra battente che la chitarra barocca, e abbiamo voluto unire le nostre sensibilità, venivamo entrambi da esperienze lavorative e musicali diverse, per poter raccontare di Napoli alla nostra maniera.